E la notte va avanti come va avanti Fanny Moon e in questo momento ci sono gli SMS Che significa? Messaggi Messaggi, va bene, short message Allora, che la mia maica era? Hai visto che ti ho portato anche a te il Buddha Smile Che carino Che carino Andiamo a leggere i messaggi, va che ci mandate voi da Hasha Ciao Bixio Ciao Perché quando ci avete fatto la puntata ci hai portato due brutti ragazzi e poi sulla tv c'è la bellissima Pamela? Non è giusto? A Domenico è giustamente, quale donna? Pamela non esiste, nel senso che c'è stato Non si arrabbia, lascia fa Comunque eravamo io e Ettore, quali brutti ragazzi? Ettore lo cercano ancora per paesi, se lo trovano Ciao, sono un piccolo poeta, ho scritto anche due libretti, l'albero della vita Vorrei saperne di più della vostra trasmissione, grazie E ti contattiamo allora, sull'albero della vita, Fanny Moon farà dei frutti cicciosi proprio, vai Volevo fare i complimenti a Diego e Simona per la nascita del loro secondo figlio Eeeh, come si chiama secondo figlio? E non si sa, complimenti Ultimo sms, sempre da Cell Vuoi una battuta? Un fungo dice a una funga, me la dai? E lei risponde, porcino Devo dire che sono sulla barzelletta movie qui Eh si Se potete fate meglio, eh? Un po' fate meglio E un pochino, va, porcino Bene, anche porcina Bene, anche questa lettura, sms, l'abbiamo, che dire, archiviata Adesso siamo solo io e te Adesso siamo solo io e te, quindi arrivo al punto Quale? Io aspetto il matrimonio No! Eh si Eh che ne sai, aspetta e spera Eh si, aspetta e spera Showmas gone, fanno una puntata, è notte, ma va avanti, va avanti, quanto? Tanto Tanto